La Lega chiede la convocazione immediata del Parlamento, deputati e senatori, come tanti altri lavoratori italiani che sono al lavoro anche in queste ore difficili, anche i parlamentari devono andare al lavoro in queste ore difficili. Il decreto che è uscito dal Governo, a cui abbiamo dato tanti suggerimenti, è solo un primo passo e non basta. È impensabile far pagare le tasse a tanti italiani già questo venerdì, è impensabile che 600 Euro per i lavoratori autonomi, precari, stagionali, interinali siano sufficienti. È impensabile che tanto personale scolastico sia costretto ad andare a scuola ed è inaccettabile lo svuoto a carceri. Mentre si arrestano gli italiani che escono di casa, si pensa di far uscire 5 mila carcerati, fra cui spacciatori, rapinatori, ladri e truffatori. È urgente migliorare, cambiare questo decreto anche perché la borsa ha perso 300 miliardi nell'ultimo mese e sono soldi che stanno uscendo da le tasse degli italiani. Non vorremmo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles e parlo del MES, della Troica e del Fondo Salva Stati senza che i parlamentari che rappresentano gli italiani siano coinvolti e ascoltati.